Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Perché dovresti studiare tre materie per ogni sessione d'esami? Superare gli esami, in generale, è ovviamente un aspetto fondamentale, potremmo dire anche necessario, e stare dicendo proprio qualcosa di ovvio e scontato. Però spesso non basta, e voglio cercare di spiegarti perché arrivo a dirti proprio questa cosa. Ancora più importante che il semplice sostenere e superare gli esami è farlo con un ritmo tale da non rimanere indietro, e nei casi più estremi addirittura uscire fuori corso, quindi quando sono finiti gli anni accademici rispettivamente previsti dal momento in cui ti sei iscritto o ti sei iscritta, e di conseguenza, siccome non hai ancora ultimato le materie, tutti gli anni in più per completare le materie necessarie appunto vengono definiti anni fuori corso. Quindi il quesito è quanti esami dovresti sostenere per ogni sessione d'esami al fine di rimanere in corso, e quindi non uscire fuori corso sostanzialmente, quindi non accumulare nessun ritardo. Ora, voglio proporti, al solito, uno schema che è abbastanza semplice e rappresenta secondo me una delle migliori strategie partendo da quello che con la massima probabilità è il tuo caso. Poi ovviamente, e questo dipende dal fatto che ogni corso di laurea è diverso, sono ben diversi i modi in cui puoi gestire la quantità di materie che devi dare e il numero di sessioni disponibili. Ma per non complicarti troppo la vita andiamo direttamente allo schema e alla sostanza, potremmo dire. Allora, quanti esami per ogni sessione? Il più delle volte, ma questo potrebbe anche essere leggermente diverso in base al tuo corso di laurea nello specifico, ovviamente mi riferisco alla maggior parte dei casi, ci sono tre sessioni di studio per ogni anno, quindi tre sessioni in cui puoi dare gli esami. In media, il numero di materie per ogni anno accademico sono circa nove e qui voglio fare anche una precisazione importante. Diciamo ovviamente che, di conseguenza, se abbiamo tre sessioni e nove materie, per avere delle sessioni equilibrate tra loro, dovremmo dare circa tre materie per ogni sessione. Questo è molto semplice. Però voglio farti notare anche una cosa importante prima di andare a vedere la parte più bassa dello schema. Quando vengono strutturati i corsi di laurea, il numero di crediti formativi deve essere, da un punto di vista ministeriale, sempre uguale. Quindi che tu debba svolgere sei, sette, otto, nove, dieci, due, una materia, qualunque cosa all'interno dello stesso anno accademico, deve prevedere il valore di sessanta crediti formativi. Quindi che siano sei, che siano otto, nove o undici materie, l'importante, e questo è previsto così dai corsi di laurea, che i crediti siano sempre gli stessi, sempre sessanta. Quindi questo vuol dire ripartire i crediti in un numero più o meno ampio di materie, ma l'impegno, in linea teorica al massimo, è esattamente lo stesso. Quindi andiamo a gestire più o meno nove materie per mantenere l'esempio semplice. Però la cosa importante da considerare è che potrebbero essere di meno, e quindi essendo meno materie, ma la stessa quantità di CFU, ogni materia è più impegnativa, oppure potrebbero essere più materie, quantitativamente, però siccome il numero di CFU è sempre lo stesso, ciascuna materia, teoricamente, è più semplice rispetto alle altre, di chi, per esempio, deve farne sei. Quindi questo è il ragionamento in generale. Ovviamente questa è la teoria, perché un docente può farti svolgere una materia di cinque, sei crediti, però caricarti con centinaia e centinaia di pagine da leggere, come potrebbe esserci una materia abbastanza considerevole da un punto di vista di CFU, però al tempo stesso è più facile da studiare. Quindi questo è per farti capire che, quando cerchiamo di arrivare a una formula per studiare e per gestire, a livello universitario, tutti gli impegni, è difficile arrivare a valore assoluti perché cambia molto da caso a caso in base a qual è la circostanza. Quindi questo comunque è una specificazione che dovevo fare, assolutamente, per farti capire che comunque se devi fare nove materie, invece di cinque, per esempio, all'interno di uno sessione accademico, in linea di principio, poi nella pratica potrebbe cambiare, come ti dicevo, non sei più svantaggiato o svantaggiata, perché il carico, in termini di CFU, è esattamente lo stesso. E siccome i CFU rispecchiano la quantità di impegno previsto in termini di ore, le ore sono esattamente uguali, distribuite in una quantità più o meno ampia di materie. Ora, chiarito questo, che è fondamentale, abbiamo utilizzato, stiamo scegliendo di utilizzare dei valori medi che possono rientrare nella casistica di un bel po' di studenti. Quindi, per esempio, come ti dicevo prima, tre sessioni. Ora, una media di nove materie all'anno nelle tre sessioni vuol dire che per ciascuna di queste dobbiamo dare tre esami. Quello che vedi in basso è l'esempio di una sessione. Infatti, il passare del tempo che è rappresentato attraverso la linea orizzontale in giallo si riferisce proprio ad una sessione d'esami. Mentre quelle che vedi, è abbastanza comprensibile, sono il primo mese della sessione e il secondo mese della stessa sessione d'esami. Perché il più delle volte si articolano in due mesi. Ovviamente, puoi avere anche qualche altra data poco prima o poco dopo, però il più delle volte sono due mesi importanti. Per esempio, nella sessione estiva i mesi sono di giugno e luglio. Ma potrebbe esserci qualche giornata a maggio. Quindi, io come ti consiglio di andare a posizionare questi esami? Siccome hai più tempo a disposizione fino alla fine del secondo mese, ti consiglio di posizionare il secondo e il terzo esame alla fine della sessione. Così hai tutto il tempo che ti serve per studiare tranquillamente, organizzarti e pianificare tutto lo studio e di conseguenza poi vai a dare la seconda e la terza materia. Quindi, il secondo e il terzo esame per sostenerlo. E invece, il primo esame ti consiglio di posizionarlo al centro. Cioè, tra un mese e l'altro, ovviamente in base alle date disponibili. Questo perché ti permetterà di avere un buon controllo perché non devi dare tre esami alla fine della sessione che diventa troppo eccessivo e inizi un po' a riscaldarti, potremmo dire. Quindi, magari puoi scegliere di fare un esame un pochettino più complesso tra il primo e il secondo mese e poi lasciare alla fine o due esami semplici o magari uno semplice e uno più difficile uno medio e uno più difficile. Quindi questo è il modo in cui ti consiglio di ragionare considerando che la casistica è ampia e quindi potresti avere bisogno di aggiustare questo schema in base alle tue necessità. Se proprio hai necessità di essere aiutato o aiutata a qualche dubbio o qualche incertezza fammi sapere come sempre nella sezione dei commenti sono molto contento di poterti aiutare e vediamo insieme come possiamo aggiustare lo schema in base alle tue caratteristiche alle tue necessità come dicevamo prima. Per quanto riguarda il video di oggi io mi fermo qui ti ringrazio come sempre per l'attenzione che mi dedichi se sei interessata o interessato ti invito ad iscriverti al canale e a prescindere io con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani. a prescindere